Fra sport e scienza esiste un forte legame volto alla tutela della salute degli atleti e al miglioramento delle prestazioni agonistiche. Anche il mondo del tennis è costantemente interessato dal processo ed un importante appuntamento è un programma venerdì 8 gennaio in Calabria, precisamente a Cosenza nella sede del Coney Point. Il rapporto fra la prestazione e il metabolismo sarà l'argomento del quale si occuperanno prestigiosi relatori e professionisti del settore. Valutazione della performance tennistica in relazione alle funzioni metaboliche. Questo è il tema della giornata in cui il primo intervento tecnico sarà curato da Fabrizio Senatore, maestro nazionale e preparatore atletico della Federazione Italiana Tennis, che ha realizzato uno studio sul dispendio energetico nel tennis moderno, presentato anche a Milano lo scorso mese di novembre nel corso del simposio targato ATP. A seguire si parlerà di nutrizione grazie all'intervento di Roberto Cannataro, nutrizionista sportivo. Si parlerà inoltre all'allenamento ritmico grazie a Francesca Perna, ricercatrice dell'Università di Trento e degli effetti dell'attività sportiva sul metabolismo, con il contributo del neurologo e fisiatra Francesco Morelli.